E anche la festa del Torrone 2016 in scena il prossimo novembre porta con sé una buona dose di polemiche. Archiviate o comunque non ancora pervenute le contestazioni degli ambulanti sfrattati da Piazza Stradivari per lasciare spazio agli stand del dolce cremonese e che nelle passate edizioni avevano asframente protestato, arrivano ora le lamentele dei commercianti di Corso Garibaldi, che si sentono discriminati, tagliati fuori dalla manifestazione. La rabbia è montata, tanto che è stata scritta una lettera con le firme di 40 negozianti e indirizzata al sindaco Gianluca Galimberti e all'assessore Barbara Manfredini, per far presente la loro posizione che in sintesi fa riferimento ad una kermesse interrotta ai confini di Corso Campi, arroccata attorno alle piazze principali e all'assenza di eventi nelle restanti via del centro. Questo in contrasto con le linee guide contenute nel bando vinto ancora dalla società SGP Eventi. Ieri sera un primo incontro interlocutorio tra amministratori e contestatori, ma la quadra del cerchio non è ancora stata trovata.